il timorasso il timorasso è stato è stata la grande la grande possibilità di queste zone perché questa è una zona di confine essendo appunto la porta del piemonte essendo una zona di confine ha tantissime uve diverse qua in zona si è sempre parlato di cortese ma cortese più famoso in un'altra zona perché cortese giustamente nasce a gavi abbiamo sempre parlato di barbera qua abbiamo avuto sempre tantissima barbera i commercianti di uve di vine sono sempre venuti storicamente negli anni scorsi a comprare barbera in zona abbiamo dolcetto abbiamo croatina abbiamo volardo essendo vicinissimi appunto all'oltrepo il timorasso per fortuna io lo dico meno male che c'è san timorasso perché il timorasso ha dato un'identità anche a questa zona e ha dato una bellissima e fortissima identità ha dato un'identità di grandi bianchi in una regione di grandissimi rossi e quindi ben venga appunto il timorasso il timorasso naturalmente non poteva essere una cosa facile perché sennò erano bravi tutti negli anni 70 negli anni 80 a scoprire il timorasso bravissima eh sì assolutamente è stato abbandonato perché il cortese innanzitutto è diventato famoso molto prima è un pochino più facile il cortese in vigneto io mi ricordo dei amici produttori gaviesi che dicevano loro stessi il cortese a maturazione tra virgolette se non proprio non viene il diluvio è un assegno in bianco perché è fantastico quando il vigneto è pronto lo vedi il grappolo maturo per sette otto giorni rimane così e hai una finestra temporale mica male in vendemmia mentre il timorasso quando lo vedi maturo praticamente devi tuffarti nella vigna e raccogliere prima possibile noi abbiamo creduto tantissimo nel timorasso abbiamo iniziato a piantare timorasso nel 97 poi abbiamo piantato di nuovo nel 98 nel 2000 nel 2005 e lo abbiamo piantato in diversi punti in diversi terreni della conombera per vedere come riusciamo a coltivarlo meglio appunto nel nel nostro territorio abbiamo fatto anche degli studi sia pedologici proprio sui terreni che poi man mano sulle uve proprio per capire dove abbiamo le uve più espressive dove abbiamo appunto le uve migliori dal 2000 abbiamo un'etichetta di timorasso che si chiama appunto d'ertona proprio per andare all'origine del territorio proprio per andare all'origine di queste uve perché il timorasso appunto nato sui colli tortonesi e poi dal 2006 abbiamo tolto una vigna che la nostra selezione e abbiamo appunto creato l'etichetta del montino e qui siamo nel montino quindi vigneto del 97 vigneto molto particolare per noi storico noi ci teniamo tantissimo il nostro vigneto del cuore quello del montino e perché appunto tutto nasce da qui oggi sono felicissima perché c'è una grossa riscoperta dei colli tortonesi ci sono tanti produttori anche famosi da zone esterne dalla dalla grande langa perché poi in piemonte si parla della giustamente la zona più importante che vengono proprio qua in zona acquistano terreni per piantare il timorasso e questo è importantissimo per noi qui adesso vedete quale ad esempio questa vite qua è una vite che ha ancora bisogno di pulizia no perché questa vite qua ha veramente tanti tralci che sono nati e quindi man mano adesso il lavoro che si fa proprio adesso è di andare a togliere queste queste foglie in più sulla testa pulirlo significa proprio e dare la possibilità alla pianta di non avere tutte queste foglie che gli mangiano energia che gli mangiano linfa e che non la fanno crescere bene riusciamo meglio a fare i trattamenti con ramezzolfo la pianta è più in salute ma la pianta anche più la possibilità insomma con la risorsa che ha di dare da mangiare meglio alle foglie al grappolo meglio di svilupparsi il secondo lavoro che si farà tra una quindicina di giorni e man mano i tralci adesso col caldo partono cresceranno tantissimo noi abbiamo tutti i vigneti ormai con doppio ramino questi ramini qua grazie a quella molla lì che dove c'è il palo si questa molla qua viene chiuso in modo che la i tralci vengono tenuti diritti la pianta cresce diritta e non ci sono problemi per passare appunto a farle le lavorazioni il timorasso ha qualche particolarità incredibile innanzitutto i viticci è una varietà che voi riconoscete anche da lontano perché crea questi viticci che non tutte le varietà fanno praticamente la vite si aggrappa tantissimo al filare e rimane aggrappata grazie appunto a questi viticci che poi sono questi qua che man mano appunto si aggrappano poi questi vedete sono quelli dell'anno scorso inoltre il timorasso è una varietà che ha un'altra incredibile particolarità che è questa pur essendo un'uva bianca ha delle striature rosse nel tralcio e ha la foglia apicale quindi le prime foglie che vengono fuori dal tralcino praticamente che sono rosse ed è una cosa incredibile per un'uva bianca è perché non è difficilissimo trovare un'uva bianca con queste foglioline così apicali rosse poi vedete che man mano si perde perché nelle foglie già nate non c'è più però questa è una particolarità del timorasso come dicevamo il timorasso non era tanto più coltivato perché il timorasso è un'uva buona da mangiare un'uva bella ma a maturazione hai una finestra di due giorni di tempo quando vedi il vigneto dorato perfetto che trovi il grappolo bellissimo se per caso piove sei finito se già c'è la ruggia dal mattino va beh perché il lacino tende un pochino a imbrunire quindi quello potrebbe già dare un problema quindi noi sappiamo che a metà settembre più o meno matura il timorasso bisogna andare in vigneto a raccogliere non c'è niente da fare qui sono 12 ettari a unico vigneto praticamente però man mano il terreno cambia più chiaro più scuro e man mano abbiamo piantato varietà appunto diverse sempre del territorio sempre della nostra tradizione allora in fronte a noi proprio là abbiamo Rivalta nella direzione proprio della casa storica della colombera abbiamo Tortona Milano Torino e Genova lì c'è tutta la fascia degli appennini e dietro abbiamo Genova la particolarità della foglia del timorasso è sicuramente allora si guardano quando vuoi capire le particolarità delle foglie cosa guardi quanti lobi hanno e poi guardi questo qui che si chiama seno pezzolare e come si chiude praticamente la foglia tu riconosci l'ampelografia della foglia da questo da quanti lobi hanno dal seno pezzolare poi dalla quanto sono quanta peluria c'è praticamente alla fine nella nella nostra foglia la foglia è viva la senti proprio quasi innanzitutto la temperatura della foglia che è diversa dalla temperatura delle nostre mani no e poi la senti proprio sia un po' magari per da una parte liscia e dall'altra con la peluria proprio un po' più morbida e poi ti dà appunto la sensazione di sentire quanto la pianta sta bene quanto la pianta è viva e quanto ti può donare ricordiamoci che è il sostentamento è il mangiare della pianta è perché insieme grazie al sole e grazie sicuramente per carità alle radici però foglie radici è quello che ci donano poi il timorasso se no qui non si mangia proprio una delle cose più belle secondo me che può capitare quando si conosce un produttore di vino lo si va a trovare di assaggiare con lui innanzitutto assaggiare nella zona di produzione si capisce sempre qualcosa di più non c'è niente da fare perché respiri l'aria senti le persone cosa ti dicono vedi che succede e capisce subito qualcosina in più della varietà inoltre assaggiare in mezzo alla vigna di timorasso il timorasso scusate se poco adesso ci siamo portati dietro il Derton dobbiamo organizzare dei cesti picnic dove ci mettiamo tutto e ci portiamo dietro tutto no grazie a tutti